Assolutamente, amici, non bastava la guerra tra Totti e Blasi. E no, bisogna allargare gli orizzonti e arrivare addirittura ai parenti. So che non è una cosa positiva. E allora, a quanto pare, anche i parenti della coppia entrano in tutta questa polemica. Sono stati giorni duri questi appena trascorsi con tutte le varie dichiarazioni dell'ex capitano della Roma che hanno sollevato un polverone e tante domande e tante risposte. Tra queste è quella di Selvaggia Lucarelli che dice che l'intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, mancanza di rispetto per Ilari e una strategia pessima che qualsiasi amico di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare. Fortuna che si dovevano difendere i figli. Ha detto così per poi concludere e dire che era perfino meglio quando parlava Alex Nuccetelli. Lo scontro è totale con Francesco Totti, signori che recentemente ha parlato di messaggi segreti trovati sul cellulare di Ilari Blasi e Totti stesso ha detto è stato uno shock, è stato uno shock, qualcosa tipo vediamoci in hotel, no, è più prudente da me magari. Mi sono tenuto tutto dentro, non l'ho detto a nessuno. Poi c'è stata invece la storia già raccontata ieri dei Rolex che sarebbero stati trafugati da Ilari e il padre da una cassetta di sicurezza. Una storia che i parenti di lei non hanno evidentemente gradito. Infatti Stefano, che è lo zio di Ilari, ha condiviso su Instagram uno scatto della sua famiglia nel quale è presente la popolare nipote. Dicendo, vi mostro la foto che dà il concetto di famiglia. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l'amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che riusciremo a tramandare ai nostri figli e nipoti. Eh sì, ci è stato insegnato il vero valore della famiglia. Ci è stato tramandato per educare bene i figli, per farli diventare onesti e non per farli diventare furbi. Questi siamo noi. Tra le righe di questa lunga dedica per i suoi parenti è facile leggere una frecciatina a Francesco Totti. Intanto scrive fanpage come settimana prossima sia stato fissato un incontro tra i rispettivi legali con l'obiettivo di arrivare a un accordo, almeno un possibile accordo, per poter evitare ulteriori danni collaterali. Insomma, i punti principali sarebbero lo stop alle dichiarazioni pubbliche, quindi il silenzio da entrambe le parti e un comunicato che metta veramente fino alla vicenda. Questo signori è tutto per queste informazioni, almeno per ora vi ringrazio per l'ascolto, se volete un pollice in su sotto questo video e noi ci sentiremo alla prossima.